Ho cominciato molto presto qui ed è stato il primo vitigno, è quasi l'unico che ho coltivato, perciò lo considero come un figlio, che però poi da grande quando deve decidere cosa fare ti fa un pochino tribolare. Spesso appunto è molto 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 importante il luogo in cui viene coltivato. Fortunatamente noi qui siamo a Ruffoli e abbiamo penso un paradiso terrestre per i Sangiovesi. Noi abbiamo una vigna che oggi ha superato gli 80 anni di vita ed è stato l'elemento che mi ha fatto innamorare di questa realtà proprio perché era una realtà che mi portava quasi ad una sfida e devo dire sinceramente con l'aiuto di mio figlio siamo riusciti veramente a far esprimere a queste viti così vecchie una potenzialità meravigliosa che ci ha permesso di ottenere un vino, il Carbonaione, che ha avuto un grande successo. Possiamo essere soddisfatti. Grazie. 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 Grazie.